Non importa se 10 medici vi hanno detto che non c'era niente o che non potevano trovare la causa del vostro problema, la chiave del mistero è in realtà nel vostro intestino. Il dottor Rafael Perez dice che ha risolto il mistero della perdita di peso. Ha incontrato migliaia di pazienti obesi o in sovrappeso. Alcuni però mangiavano molto bene, facevano sport regolari e avevano uno stile di vita esemplare e nonostante ciò non riuscivano a perdere peso. Volendo aiutare meglio queste persone il dottor Perez ha cercato ciò che impediva loro di raggiungere risultati duraturi. Ha scoperto un notevole progresso scientifico che ha cambiato tutto. Attribuisce quasi tutta la loro perdita di peso a una sola cosa che ha aggiunto alla loro alimentazione. Mi dica se questo suona familiare. Quando era bambino aveva moltissima energia, era raro avere problemi digestivi e poteva mangiare tutto quello che voleva senza ingrassarsi. Ma con il passare degli anni sembra che qualcosa nel suo corpo sia cambiato. Forse ha questi sintomi. Problemi digestivi come gonfiore o costipazione, voglie di zucchero e carboidrati, eruzioni cutanee, brufoli, rosacea, sistema immunitario debole, raffreddori e allergie frequenti. Mal di testa, nebbia mentale e perdita di memoria. Fatica eccessiva, aumento di peso, specialmente intorno alla pancia. Cattivo umore, sentirsi depresso. E se ne ha parlato con il suo dottore probabilmente le ha detto che non ha nessun vero e proprio problema. Forse le ha suggerito di mangiare meno fast food e di fare esercizio. Ma se le dicessi che sono tutte bugie, se le dicessi che c'è un problema dentro il suo corpo. E cosa ancora più scioccante, che non è colpa sua. Il mio nome è il dottor Rafael Perez e ho compilato questa nuova presentazione video per due ragioni. Prima per dirle che come lei, anch'io, potrei soffrire di una condizione che i ricercatori chiamano intestino gocciolante. Un problema che si nasconde dentro di lei, che potrebbe essere la causa della sua mancanza di energia, dolori digestivi, nebbia mentale, voglie di cibo, aumento di peso, allergie e anche problemi alla pelle. E la seconda ragione per cui ho fatto questo video è per dirle come risolvere il problema. Perché non c'è solo la speranza di una soluzione. Adesso ci sono ricerche cliniche che dimostrano che questo pericoloso problema di salute è reale. E ancora meglio, un metodo per curarlo una volta per tutte. Questo significa considerevole aumento di energia, meno voglia di cibo, centimetri in meno sul punto vita, la fine dei dolori e fastidi digestivi. E la cosa migliore di tutte, ripristinare la buona salute di cui il suo corpo godeva, sia dentro che fuori. Ho visto questa incredibile trasformazione in migliaia, sì migliaia dei miei pazienti, che hanno tutti ripristinato la loro salute in modi che non avrebbero mai creduto possibili. Ma la prima persona su cui ho provato questa semplice soluzione ero io. Vede, per decenni pensavo che stessi facendo le cose giuste. Mangiavo una dieta salutare, dopotutto sono un dottore nutrizionista. Non mangiavo mai quasi fast food, mangiavo latticini senza grasso e grani integrali, correvo 50 chilometri a settimana e andavo in palestra tutti i giorni. Nonostante tutto questo, ero 30 chili in sovrappeso, avevo la pressione alta, emicranie, artrite, colesterolo alto e resistenza all'insulina. Mi continuavo a chiedere se sto facendo tutte le cose giuste, perché ho tutti questi problemi. Se sta guardando questo video, anche lei probabilmente sa che qualcosa non va dritto, ma non sa che cosa. Forse non riesce a controllare le sue voglie sfrenate per certi cibi, ha basso contenuto di carboidrati, basso contenuto di grassi, paleo, ha basso indice glicemico e altre diete che non hanno aiutato e che non possono continuare a andare troppo per le lunghe. E quindi il peso è subito tornato. Lo stesso vale per il jogging, camminate veloci, sollevamento pesi, aerobica, crossfit, yoga, spinning o altri tipi di esercizio che ha provato per eliminare questi chili ostinati, solo per vederli fallire alla fine. Se tutto questo suona familiare, non sarei sorpreso se lei stia combattendo con la frustrazione di problemi digestivi, mal di testa, male alle articolazioni, o rigidità mattutina. Alcune persone soffrono anche di acne in età adulta, nebbia mentale, un serio calo di energia e altre condizioni che semplicemente non vanno via. Forse si sente di essere in qualche modo la causa della sua mancanza di salute e chili in eccesso, sentendosi colpevole o addirittura provando vergogna. Se può essere di consolazione, non è solo. E sono qui per dirle non è colpa sua e tutti questi sintomi fastidiosi stanno per cessare. Le dirò esattamente cos'è andato storto dentro di lei. È qualcosa di cui molti non sono ancora consapevoli. Nemmeno in una stanza piena di dottori in cui sono stato invitato a parlare ad Harvard. Le racconterò la storia in un minuto e non crederà mai quanto ignara sia questa gente delle cosiddette Ivy League. Le dirò anche come ho aiutato migliaia di pazienti a curare questi stessi problemi di cui soffre anche lei. Voglio che lei senta quello che sentono loro. La fine di problemi digestivi dolorosi. La fine di appetito incontrollabile e aumento di peso. Tutti quegli inesplicabili problemi di pelle, umore e salute spariti nel giro di settimane. E la cosa migliore voglio che lei sia strapieno di energia. Il tipo di energia che aveva quando era giovane è lo stesso tipo di energia che i miei pazienti ed io abbiamo ritrovato anche dopo i 60 anni. Ma prima, ripeti dopo di me, non è colpa mia. Esattamente, i suoi problemi di salute non sono colpa sua. Ho la soluzione per quello che l'affligge ma si preparato ad avere le idee completamente cambiate su tutto quello che lei credeva fosse salutare. Infatti alcune delle cose che sto per dirle vanno direttamente contro a quello che molti dottori credono. Quindi come posso essere così sicuro di questo problema che affligge milioni di italiani e il semplice e provato metodo per curarlo? Ebbene, mi faccia spiegarle la mia preparazione medica e come ho scoperto questa soluzione scioccante. Una che la maggior parte dei dottori non sa nulla al riguardo. Nuovamente, il mio nome è il dottor Rafael Perez e sono un dottore e famoso nutrizionista che vive fra l'Italia e la Francia. Approfondisco la mia ricerca medica ormai da anni come passione. Ho visto migliaia di pazienti con una vasta gamma di problemi di salute, incluse malattie cardiovascolari, cancro, condizioni autoimmuni, diabete e obesità. Ma forse mi conosce meglio per via delle mie comparse in tv o per interviste su notiziari in tutta Italia. O per via dei miei video online su salute e benessere che hanno più di 50 milioni di visite. E secondo i miei colleghi questo è il mio video più importante fino ad adesso. Perché gente del mondo dello spettacolo, dirigenti elencati nel Fortiun 500 e migliaia di altri italiani vengono da me per aiuto? La risposta è semplice, perché io sono disposto ad affrontare problemi medici che nessun altro può curare. La gente viene da me dopo aver provato ogni altro posto, Harvard, la Mayo Clinic, Princeton, UCLA e non hanno ancora trovato risposte. Perché non ho paura di provare soluzioni che vanno controcorrente. Infatti nella mia esperienza molti dottori sono spesso indietro quando si tratta di ricerche più innovative e in alcuni casi fanno più male che bene. Perché? Ebbene, la soluzione potrebbe scioccarla. Ho realizzato che molto di quello che avevo imparato, molto di quello che dicevamo ai pazienti era decisamente sbagliato. Specificamente la mia ricerca ha dimostrato che molte delle condizioni che stavo trattando, aumento di peso, cattiva circolazione, peggioramenti di salute, problemi di cuore, anche declino nelle abilità mentali, iniziavano tutte in un unico posto di cui nessuno parlava, l'intestino. All'inizio sembra difficile credere che alcuni, se non tutti i problemi di salute, possano iniziare nel tratto intestinale e che possano essere aggiustate anche da lì. Ma mi creda, da uno che ha passato decenni a fare ricerca, a studiare e fare teste per provare soluzioni in questo campo, praticamente ogni problema di salute che affronta nella sua vita può essere ricollegato all'intestino. E se soffre di problemi digestivi, fatica, disturbi della pelle, articolazioni doloranti, calo di umore, mal di testa e nebbia mentale, o semplicemente una sensazione che qualcosa non va, ma non sa perché, potrebbe soffrire di quello che io e altri ricercatori chiamiamo intestino gocciolante. Adesso probabilmente si chiede che cos'è l'intestino gocciolante? Com'è possibile che tutti questi disturbi diversi siano collegati? E che cosa hanno a che fare con il mio tratto digestivo? Beh, si prepari perché sto per spiegare tutto. Intestino gocciolante è un termine usato per descrivere un problema semplice con risultati devastanti. La mucosa del suo tratto digestivo potrebbe essere gocciolante, lasciando che pericolose tossine si intrufolino nel suo corpo, attaccando letteralmente ogni aspetto della sua salute. Ecco un modo semplice per comprendere l'intestino gocciolante. Quando lei mangia del cibo delizioso, il cibo viaggia per il suo corpo tramite il tratto digestivo. Per strada il cibo viene diviso nello stomaco, dove le cose buone vengono assorbite nel suo sistema per provvedere i nutrienti e l'energia necessaria per sopravvivere. Tutte le parti cattive, le schifezze come batteri, tossine e altre cose pericolose per lei vengono metabolizzate e, beh, ce ne disfiamo quando andiamo in bagno. È la maniera bella e naturale che il nostro corpo usa per assicurarsi che traiamo il più possibile dal cibo e allo stesso tempo eliminando le parti nocive. E per la maggior parte il corpo è fatto veramente bene, ma qui c'è il problema. Il suo tratto digestivo è molto lungo. Incredibilmente, se lo tirasse fuori per guardarlo tutto, avrebbe la stessa area in metri quadri di un campo da tennis. Eppure, nonostante sia così lungo, è anche molto fine. Infatti, la mucosa del suo intestino è spessa solo quella di una cellula. È la cosa più fine che puoi immaginare. Ma una cosa molto interessante del suo corpo è che, nonostante la mucosa del tratto digestivo sia così fine, le cellule sono veramente toste. Le puoi immaginare come degli agenti segreti in fila con le braccia una intorno all'altro, assicurandosi che nessuno possa passare tramite la parete dell'intestino. E nella maggior parte dei casi niente passa, ma qui arriva la parte problematica. Grazie a questa nuova ricerca da parte mia e da altri, adesso sappiamo che c'è una sostanza pericolosa che non solo riesce a passare, ma distrugge anche la mucosa intestinale. Si chiamano lectine. Se ha già visto altri miei video, avrà già sentito parlare delle lectine. Ma ho delle nuove informazioni sulle lectine che stanno scioccando la comunità medica ed è per questo che questo video è il più importante che io abbia mai realizzato. Vede, le lectine sono piccolissime proteine che si trovano in certi tipi di cibi. Un tipo conosciuto di lectina di cui avrà sentito parlare è il glutine. Ma questo è solo un tipo, ce ne sono altri trovati in varie piante. Alcuni cibi comuni che contengono le lectine sono farina integrale, melanzane e pomodori. Ma a molte persone è stato detto che questi sono cibi salutari, ma mi creda, sono tutt'altro, perché i suoi antenati non mangiavano alcuni di questi cosiddetti cibi salutari. Vede, questi cibi non sono stati introdotti nella civiltà occidentale fino al 1492, quando Cristoforo Colombo le scoprì nel Nuovo Mondo e le portò in Europa. Ovviamente lui non aveva idea che fossero pieni di lectine, o l'impatto che queste potessero avere sul tratto digestivo umano, che non era mai stato esposto a quei cibi stranieri prima. Nel caso della farina integrale, gli umani la mangiano da più lungo, da quando l'agricoltura iniziò circa 10.000 anni fa. Ma anche allora la maggior parte delle società toglieva la crusca scura dal frumento e mangiava invece pane bianco. Il che non è una coincidenza, perché è nella parte scura, integrale, che le lectine che distruggono l'intestino si trovano. Purtroppo, a partire dagli anni 50, l'uso del termine prodotto salutare per il frumento integrale ha messo piede nella nostra società insieme ad altri cibi ricchi di lettine. Sa cos'altro è successo a partire dagli anni 50? Il tasso di obesità è triplicato, il diabete ha aumentato dell'800%, un'alta percentuale di italiani ormai considerata in sovrappeso. Io ero uno di loro, ed essendo un dottore nutrizionista non riuscivo proprio a capire come fosse possibile che gli italiani, con le tecnologie mediche migliori al mondo, l'economia più ricca, una palestra ad ogni angolo e un'abbondanza di cibi salutari in ogni alimentare, potessero essere così malati e peggiorando di anno in anno. Ebbene, mi creda, una risposta c'è. E c'è un modo per perdere quel peso, ritrovare energia e lasciare andare quei fastidiosi problemi di salute che la privano di gioia. Un modo per sembrare e sentirsi di nuovo fantastici nel modo in cui dovrebbe. Ed inizia tutto con queste lectine. Vede, queste brutte e piccole lectine in questi cibi sono esperte a spezzare le braccia interciate di quelle cellule agenti segreti nel suo intestino. E quando rompono quelle cellule che proteggono la sua parete intestinale, non escono solo dal suo tratto intestinale, ma lasciano un buco nella mucosa protettiva, così che adesso anche le altre cose nocive possono fuoriuscire. Questo è ciò che in breve chiamiamo intestino gocciolante, lectine che fanno dei buchi nella mucosa digestiva. E vorrei poter dire che finisce qui, ma purtroppo questo è solo l'inizio dei problemi. Vede, una volta che ha un intestino gocciolante, altre sostanze nocive possono passare per la sua mucosa intestinale indebolita. E le peggiori di queste sostanze nocive sono chiamate lipopolisaccaridi, anche conosciute come endotossine. Endotossine sono piccole parti di batteri. Questo suonerà schifoso, ma ha bisogno di sentirlo. Ad un livello chimico, sono praticamente microscopici pezzettini di cacca. Ce ne sono circa due chili e mezzo nel suo intestino. E le sue cellule agenti segreti dovrebbero tenerli a bada, ma una volta che ha un intestino gocciolante, queste endotossine vedono il buco e si fiondano in mezzo. E quando lo fanno, stia in guardia. Queste endotossine attaccano il corpo intero come un esercito che invade. Se queste endotossine vanno nelle sue articolazioni, provocano dolori e fastidi. Se entrano nella pelle, causano prurito, rossore, acne ed eruzioni cutanee. Se entrano nella parte alta del tratto digestivo, provocano indigestione e reflusso. Se entrano nel sangue, possono anche provocare uno shock settico. Se entrano nel tessuto cardiaco, possono causare il tipo di problemi di salute fatali che ho passato tutta la mia carriera a cercare di prevenire, incluse malattie cardiache e anche la morte. E sa qual è la parte peggiore? Per il suo cervello, tutte queste terribili cose sono percepite come un attacco al suo corpo, allo stesso modo di quando ha un virus. Quindi il suo cervello percepisce questa minaccia allerta rossa e per fermare questi attacchi manda delle cellule. Per aggiustare la situazione, ci riesce per un po'. Ma il suo cervello non può stare a livello minaccia allerta rossa ogni giorno, tutto il giorno. Presto, le cellule che proteggono il suo cervello dai lipopoli saccaridi si iniziano a stancare e quando queste cellule gliali nel suo cervello sono troppo stanche, provocano la morte di cellule cerebrali. Mal di testa, nebbia mentale, peggioramento della memoria, questi sono solo i primi segni di danno. Ma se queste tossine sono lasciate libere di fare quello che vogliono nei corpi per mesi o anche anni, il danno mentale può essere molto, molto peggio. Se il pensiero di questi problemi di salute non la fa dormire di notte, mi creda. Io mi sento proprio come lei. Per questo adesso capisce che quando parlo d'intestino gocciolante non parlo solo di un problemino che causa fastidi digestivi, è praticamente la causa principale di quasi ogni malattia a cui riesce a pensare, sia fisica che emotiva. E tutto ha a che fare con queste cattive e malvagie endotossine che si intrufolano nella mucosa intestinale per causare danni in tutto il suo corpo. Questa è la rivelazione scioccante che mi ha fatto realizzare che la mia carriera avrebbe drasticamente cambiato strada. E una volta che ho realizzato che stava veramente provocando i problemi che vedevo in sala operatoria, sapevo che avevo una nuova mission nella vita. Ho realizzato che potevo aiutare le persone di più come dottore se le aiutavo prima di arrivare a quel punto drastico, curando i loro problemi laddove iniziavano, nell'intestino. Abbiamo preso pazienti che non riuscivano a trovare risposte per i loro inesplicabili problemi di salute da nessuna parte. Molti di loro avevano perso ogni speranza, ma io li ho presi. Ed insieme iniziamo a cambiare vite. Basandomi su questa nuova teoria che tutti questi problemi avevano origine nell'intestino e che era l'intestino che dovevamo curare, iniziai a vedere i cambiamenti incredibili nei miei pazienti. Elena Jay aveva 67 anni e aveva sofferto di terribile reflusso per la maggior parte della sua vita adulta. Aveva anche mal di pancia in continuazione, debolezza, fatica e un livello basso di proteina. Una biopsia rivelò che aveva anche lesioni nel suo esofago. Dopo aver iniziato il mio programma il suo reflusso svanì quasi subito e la sua pancia non fece più male. Quando ebbe una gastroscopia l'anno dopo il danno era stato quasi al 100% annullato. La 76enne Jennifer Woo venne da me perché soffriva di articolazioni dolorose e un elevato numero di indici autoimmuni. Riusciva a malapena a fare un pugno con la mano. Quindi camminare era veramente duro. Dopo aver provato il mio semplice programma le articolazioni dolenti e infiammazioni erano sparite. Non in anni o mesi ma nel giro di settimane. E forse il cambiamento più grande che i pazienti hanno visto ha a che fare con la perdita di peso. Migliaia di persone hanno ormai adottato questo programma con successi straordinari raggiungendo finalmente il peso l'energia e la salute che da molto tempo erano impossibili da raggiungere. Questo include persone di ogni taglia. Da chi voleva perdere molto peso per stare in miglior salute a chi voleva semplicemente perdere quei chiletti ostinati intorno alla pancia. In poco tempo avevamo così tante persone che venivano per noi a chiedere aiuto che aprimo un secondo centro nella nazione. E cosa facevo esattamente per repristinare la salute in questi pazienti? Queste sono le premesse. smisi semplicemente di usare tutte quelle tecniche mediche che non funzionavano e mi affidai ad un sistema naturale e provato che aiuta il corpo a guarire se stesso. Ho fatto smettere a tutti i miei pazienti di mangiare cibi che interrompevano il loro tratto intestinale che causano un intestino gocciolante. Nella maggior parte dei casi questi sono cibi che i nostri antenati non mangiavano mai come frumento integrale, fagioli e altri cibi che contengono alte quantità di lectine. Incredibilmente molti di questi cibi sono considerati salutari mentre in verità provocano il caos nell'intestino. Ho anche fatto smettere ai miei pazienti di prendere tutti quei medicinali senza prescrizione del medico che contengono sostanze chimiche che distruggono la mucosa intestinale, incluse pilole contro l'acidità antidolorifici e tutti gli antinfiammatori. Questi prodotti possono aiutare per un'ora o due ma rendono anche quei buchi nell'intestino ancora più grandi, provocando sintomi di fatica, indigestione, costipazione, mal di testa, dolori al corpo e altri sintomi dell'intestino gocciolante ancora peggiori. Una paziente Laura soffriva di fatica, aumento di peso e articolazioni doloranti dappertutto. Aveva anche seri fastidi allo stomaco e gonfiore. Era andata dappertutto ma nessuno poteva aiutarla. Certamente aveva tutti i sintomi di un intestino gocciolante, le dissi semplicemente quali cibi medicinali da evitare completamente e quali integratori da aggiungere alla sua dieta. In pochissimo tempo la causa di quei problemi era stata debellata, il suo intestino gocciolante. Con la sua mucosa riparata le tossine non girovagavano più per il suo corpo e i nervi nelle sue articolazioni smisero di gridare aiuto perché l'allerta rossa era finita. Lei perse anche molto peso, i suoi problemi digestivi non ci furono più e ritorno ad essere la persona bella, felice e in buona salute che sapeva sempre che avrebbe potuto essere. Davvero è così semplice? Beh dopo anni passati ad aiutare pazienti proprio come Laura sapevo di essere pronto per presentare le mie scoperte al resto del mondo. Le posso dire dopo aver provato ad attirare l'attenzione della comunità medica per anni sulla vera causa di molti problemi di salute è stato fantastico poterle finalmente divulgare. Da allora sono stato invitato a parlare praticamente in ogni istituzione prestigiosa al mondo, infatti sono stato in Francia quest'anno per parlare con i migliori dottori della nazione. Ora senza offesa per questa gente che viene dagli Ivy League sarebbe sorpreso di vedere quanto una stanza piena di persone intelligenti possa essere così disinformata. Vede gli oratori stanno discutendo un argomento molto serio, demenza e alzheimer e uno di questi ricercatori aveva scoperto una connessione con i tipi di cellule prima le cellule gliali del cervello. Data la mia conoscenza dell'argomento fu invitato a parlare anch'io. Questi ricercatori avevano realizzato che quando le cellule gliali venivano attivate c'era una correlazione diretta con il declino delle facoltà cognitive. Ero contento di sentire questa loro scoperta perché era esattamente quello che anche la mia ricerca aveva confermato. Ma c'era un problema. Quando gli chiesi cosa attivava queste cellule gliali nemmeno uno di loro aveva una risposta e ancora peggio? Non gliene importava. Perché il vero scopo di questa conferenza era di scoprire nuovi medicinali che potessero coprire i sintomi che queste cellule del cervello che non funzionavano bene provocano. Ho quasi strillato ma non dovremmo cercare di aggiustare ciò che causa queste cellule ad attivarsi invece di mascherare solo i sintomi? Ma le mie richieste non ebbero risposta. Tristemente i medicinali che speravano di creare sarebbero potuti diventare fonte di miliardi di euro. Dire alla gente di mangiare bene invece non fa guadagnare un centesimo. Ebbene lasciai quella conferenza deluso ma non sorpreso. Sapevo che dovevo fare qualcosa per raggiungere più persone. Non solo le migliaia di persone che avevo visto nella mia pratica ma decine di migliaia magari anche milioni. Ogni uomo donna e bambino che soffriva di affaticamento, aumento di peso, problemi digestivi e di memoria e non sapeva il perché. Dopotutto ci sono persone che soffrono in tutta Italia e nel mondo e realisticamente parlando non le posso incontrare tutte. Abbiamo già raggiunto migliaia di persone che finalmente hanno trovato sollievo da aumento di peso, problemi digestivi e dolori al corpo. Persone che sono felicissime di capire finalmente cosa andava storto nel loro corpo dopo che tanti dottori gli avevano detto che non c'era niente. E non potrei essere più felice. Quindi quest'anno mi sono concentrato su una nuova missione nella mia vita. C'era un modo di migliorare la salute intestinale e aggiustare tutti quei buchi con una formula che le persone potessero prendere da casa? Se l'avessimo trovata, sapevo che avrebbe significato sollievo per migliaia, forse anche milioni di persone in tutto il mondo. Avrebbe significato la capacità per molti di uscire e socializzare di nuovo, senza temere problemi digestivi. Potrebbe significare perdere chili in eccesso e amare la forma del loro corpo non cercando di nasconderlo dal mondo. E potrebbe significare la fine dell'intestino gocciolante e di tutti i dolorosi sintomi che tolgono la gioia connessi con questo problema. Quindi iniziai a ricercare ogni nutriente, proteine ed enzima che potevo sperando di trovare quelli che potessero rinforzare il tratto digestivo e fermare quel tanto temuto gocciolio. Beh, le posso dire, ci sono letteralmente migliaia di ingredienti da testare e purtroppo la maggior parte non fanno proprio nulla. Per un periodo il lavoro sembrava così sconfortante che quasi lasciai perdere. Ma continuammo e presto scoprì una manciata di ingredienti che dava ai miei pazienti il sollievo per cui pregavo. Iniziamo con tre ingredienti. L-glutammina, N-acetile-D-glucosamina, estratto di radice di liquirizia. Questi ingredienti hanno tutti dimostrato di dare sollievo ad una mucosa intestinale infiammata. E funzionavano molto bene, aiutando i miei pazienti a sentire meno affaticamento, meno dolori e fastidi e una perdita di peso più veloce che prima non riuscivano ad ottenere. Eppure sapevo che i risultati sarebbero potuti essere migliori. Entro sei mesi avevamo 15 ingredienti che davano ai miei pazienti ancora più controllo sulla loro salute e provocando miglioramenti nella salute dell'intestino come non avevo mai visto prima da altri integratori. Ero elettrizzato, ma sapevo che potevamo fare ancora meglio. Ed è così che è nato Pepsin-G. Pepsin-G è un complesso completamente nuovo, una combinazione di zinco e L-carnosine, due ingredienti eroi dell'intestino che hanno dato prova non solo di dare sollievo alla mucosa intestinale, ma di riparare addirittura i tessuti. Incredibilmente questo significava che non solo la nostra scoperta preveniva nuovi buchi nell'intestino, ma curava anche quelli già esistenti, non lasciando trapelare endotussine. Anche se le prime ricerche sulla Pepsin-G andavano bene, io sono fissato con l'averi tutti i fatti, quindi ho insistito per sottoporre Pepsin-G ad uno studio clinico controllato doppio cieco e complacebo, lo standard più alto in test umani. Abbiamo assunto 258 persone che soffrivano di acidità, gonfiore, gas, diarrea e costipazione. I segni più classici di un intestino gocciolante. Dopo 8 settimane guardammo i risultati, ero semplicemente scioccato. Usando solo Pepsin-G, 92% dei candidati riportò un miglioramento dell'acidità, gonfiore, gas, diarrea e costipazione. 9 su 10 candidati vede miglioramenti, da un ingrediente solo. Immediatamente aggiunsi Pepsin-G alla mia formula portandola ad un totale di 16 ingredienti eroi dell'intestino e iniziai a darlo ai miei pazienti. I risultati furono qualcosa che non avevo mai visto prima. Un integratore naturale in grado di attaccare praticamente ogni caso di intestino gocciolante, finalmente riparando una mucosa intestinale rovinata da endotossine e lectine. Abbiamo chiamato questa nuova formula Vitavias Digest Ultra, Gath Health Blend. Digest Ultra è la prima e sola formula che combina questi potenti 16 ingredienti in questa nuova rivoluzionaria miscela per l'intestino. E sta già aiutando persone come lei a raggiungere risultati che non avrebbero mai potuto credere possibili. Problemi digestivi che migliorano di molto o spariscono proprio, chili in eccesso, specialmente intorno alla pancia che iniziano a sparire, problemi inespicabili alla pelle, articolazioni e stomaco che spariscono, fatica rimpiazzata da un'abbondanza di energia, il tipo di energia che aveva quando era bambino e il tipo che può avere anche adesso con un intestino sano. E sa cosa amo di più di questa formula? Non necessita di un dottore, clinica o visita a nessun tipo di ospedale. I nostri laboratori hanno trovato un modo per trasformare questi 16 ingredienti in una singola potente pillola. Una pillola che può prendere da solo, tutti i giorni comodamente a casa sua ed inizia a lavorare aggiustando la sua mucosa intestinale già dopo il primo uso. Ancora meglio, non ha zuccheri, carboidrati e solo 10 calorie per pillola. È una capsula naturale, salutare, formulata da dottori che le aiuterà ad avere la salute e sicurezza di sé che si merita. Le dirò in un attimo come può ottenere Digest Ultra, ma prima le vorrei spiegare come abbiamo raggiunto questi fantastici risultati. È grazie a questi tre potenti ingredienti che funzionano per quello che io chiamo difesa a tre denti. Queste linee di difesa fanno tre cose per fermare un intestino gocciolante. Riparano le pareti dell'intestino danneggiate così che nessuna endotossina può scappare. Assorbono le pericolose lectine. Rimettono in equilibrio la flora batterica per proteggerla in futuro. Mi faccia spiegare questi uno per uno. Riparare l'intestino. Digest Ultra è rivoluzionario perché contiene ingredienti provati a allenire. Ristorare e riparare la mucosa della parete intestinale. Il primo è i glutamina, un abido acido che non solo dà sollievo la mucosa della parete intestinale, ma riduce voglia di cibo e aiuta a tenere sotto controllo il peso. In uno studio in Italia nel 2014 fu dato a delle donne sovrappeso o i glutamine o un placebo. In meno di un mese le donne che avevano preso i glutamine avevano perso una media di più di 3 kg e 2 taglie, mentre le donne che prendevano il placebo non avevano perso nulla. Infatti i ricercatori determinarono che semplicemente prendendo i glutamine i pazienti bruciavano 500 calorie al giorno in più, senza cambiare la loro dieta o livello di movimento. L-glutamina è anche riconosciuta per diminuire le voglie di carboidrati, zucchero e anche alcol. È veramente un eroe quando si tratta di mantenere l'intestino in salute e il corpo in forma. Per questo motivo includiamo ben 213 mg di L-glutamina in ogni capsula di Digest Ultra. Ma non è solo la L-glutamina, abbiamo anche incluso eroi dell'intestino completamente naturali, come la radice di liquirizia e la radice di altea. So cosa pensa, liquirizia e altea? Sembra un dolce! Beh, queste erbe saporite sono state usate per migliaia di anni come medicine, andando indietro fino all'antica Cina, Grecia e Roma. E grazie alla scienza moderna adesso sappiamo che il loro uso non è solo antica tradizione. Funzionano davvero! Oltre due dozzine di studi hanno recentemente dimostrato che la radice di liquirizia può aiutare a sanare la mucosa delle pareti intestinali. E uno studio doppio cieco con placebo controllato nel 2011 dimostrò che la radice di liquirizia aiuta con il reflusso e acidità e la radice di altea, marshmallow, non il dolcetto morbido che si mangia quando si fa camping vicino a un falò, ma la radice da cui proviene è riconosciuta per le sue abilità di ricoprire e lenire le membrane mucose, inclusi i buchi nel suo intestino. Riesce a fare questo formando uno strato protettivo intorno ai buchi dove le lectine riescono a intrufolarsi. Immagina questa radice come la corazza che i suoi agenti segreti indossano per rendere le loro braccia intrecciate ancora più forti e fa molto bene alla pelle. Secondo il dottor Kenneth Howe della dermatologia Wexler a New York, le proprietà antinfiammatorie di questo estratto lo rendono una scelta perfetta per persone con problemi della pelle, come chi soffre di eczema o rosacea. Ma l'eroe maggiore per riparare l'intestino è quello di cui le parlavo prima, Pepsin G. Vede Pepsin G contiene zinco che ha dato prova in veri e propri pazienti umani non solo di migliorare ma di curare e riempire quei buchi che provocano l'intestino gocciolante. Questo è ciò che rende questa formula incredibile. La maggior parte dei trattamenti per l'intestino gocciolante e medicinali senza ricetta medica danno solo sollievo alla mucosa intestinale, che è come avere una barca con un solo buco e usare solo dei secchi per buttare via l'acqua. Non si può risolvere il problema, meno che, a parte togliere l'acqua, si rattoppa e si ripara il buco. Dopodiché la sua barca è pronta a partire a vele spianate. E questo è esattamente quello che Digest Ultra riesce a fare dentro il suo corpo. Le dà una mucosa intestinale di ferro, che è come passare da una vecchia barchetta con un buco ad un motoscafo con il turbo. E quando proverà questo cambiamento sentirà la differenza immediatamente. E mi lasci dire un'altra cosa. Essendo un dottore nutrizionista, a volte vedevo pazienti prima dell'operazione che mi giuravano di sentirsi bene e di non aver bisogno dell'operazione. Ma dopo che gli davamo un cuore sano o aggiustato quello vecchio con delle nuove arterie, dopo qualche settimana mi dicevano, dottore, non avevo idea di quanto stavo male finché non mi sono sentito bene. Ebbene, l'intestino gocciolante funziona proprio così. Per molti di noi ci siamo sentiti sempre un po' peggio per molti anni, ma succede così lentamente che a malapena notiamo la fatica, la fame, i dolori, i fastidi. Diventa la nostra nuova norma. Ma una volta che aggiustiamo l'intestino gocciolante e iniziamo a vedere le voglie di schifezze sparire, l'energia che aumenta. Il corpo che si trasforma rapidamente dirà quello che ho detto io quando ho curato il mio intestino gocciolante. Mi ero scordato com'era apparire e sentirsi così bene e non voglio mai tornare indietro. Ed è per questo che una volta aver riparato e ripristinato la mucosa intestinale, c'è altro che possiamo fare per prevenire la formazione di un intestino gocciolante nuovamente. E questo mi porta alla seconda linea di difesa, assorbire lectine pericolose. Se ricorda gli agenti segreti che si tengono a braccetto e proteggono la sua mucosa intestinale? E si ricorda come le lectine sono esperte a intrufolarsi e creare i buchi in questa catena? Quindi il secondo passo è assorbire le lectine nel suo intestino, prima che raggiungano gli agenti segreti. Otteniamo questo con una sostanza chiamata N-acetile di glucosamina. Forse ha sentito parlare di glucosamina o forse l'ha anche presa. Ha molti benefici per la salute, inclusi antidolorifici e miglioramento della salute delle articolazioni, che molti studi dimostrano. Sfortunatamente la glucosamina che compri nei negozi è di qualità abbastanza bassa, ed è per questo che quella comprata nei negozi non assorbe le lectine bene. Invece noi abbiamo usato la formula di glucosamina più pura mai trovata, N-acetile di glucosamina. Puoi immaginarti la glucosamina come una normale macchina da rottamare, e la nostra versione come una Porsche. E questa glucosamina di alta qualità si comporta come una spugna, una spugna esperta ad assorbire tutte quelle lectine malvagie nel suo intestino. In altre parole la glucosamina è come un agente in borghese, facendo credere alle lectine di dover attaccare lui, mentre così le tiene lontane dalla parete intestinale. E ora che le lectine sono distratte possiamo passare alla parte finale della nostra formula, ripristinare l'equilibrio intestinale. Avrà sentito parlare di fermenti lattici? I fermenti lattici sono batteri buoni che vivono nell'intestino, e aiutano a combattere batteri cattivi come funghi e candida, che possono veramente far male alla salute. La gente a volte mi chiede, Digest Ultra contiene fermenti lattici? La risposta è no, contiene ingredienti migliori che proteggono e distruggono tutti i cattivi batteri nell'intestino. Uno di questi è l'estratto di funghi, uno dei cibi preferiti dai batteri dell'intestino. Dice anche al suo sistema immunitario di stare calmo e rilassato, una delle ragioni per cui i funghi sono usati da secoli per rinforzare il sistema immunitario. Digest Ultra contiene anche chiodi di garofano, che io chiamo l'assoluto booster immunitario. Perché li chiamo così? Perché i chiodi di garofano sono l'antiossidante più potente conosciuto dall'uomo. Vede nel 2010 l'università di fama mondiale Tufs a Boston rilasciò la nuova lista degli antiossidanti più potenti al mondo. Usarono una procedura complessa per determinare quali ci proteggono da danni ossidativi a livello cellulare, ossia che hanno il potere di rinforzare il sistema immunitario, migliorare la pelle, la vista, la salute del cuore e addirittura anche la memoria e funzioni cerebrali. In breve gli antiossidanti sono uno degli aspetti della salute più importante, punto. Ebbene Tufs testò ogni antiossidante conosciuto al mondo. Curcuma, chicchi di cioccolato, anche le leggendarie bacche di Akai. Quelle bacche avevano ricevuto un risultato di 100.000 punti sulla scala antiossidante. Un voto buono che le portò nelle prime 10 in classifica. Ma quando testarono i chiodi di garofano non si avvicinavano nemmeno lontanamente agli altri ingredienti. Con un risultato di 314.000. Di gran lunga l'antiossidante più potente. Quel risultato era incredibile. Dopo che lo studio fu pubblicato iniziai a prendere estratto di chiodi di garofano due volte al giorno. Per questo sono felice del fatto che abbiamo ben 17 milligrammi di estratto di chiodi di garofano in Digest Ultra. Significa che può ricevere tutta la potenza dei chiodi di garofano insieme ad altri 15 superpotenti ingredienti tutti in uno. Ora non dico che Digest Ultra sia necessariamente per tutti. Se lei ha quella che io chiamo una dieta perfetta, che vuol dire che non mangia assolutamente nessun tipo di cibo che contiene lectine ed endossine, come pasta, riso, zucca, peperoni, zucchero, semi di girasole, noccioline, anacardi, frumento, avena, mais, pomodori e un'altra dozzina di cibi pieni di lectine, allora potrebbe veramente essere nell'1% di italiani che non hanno un intestino gocciolante e proverà già i benefici di un intestino in buona salute. Però se lei come la maggior parte delle persone mangia questi cibi con frequenza regolare, perché diciamolo, sono quasi impossibili da evitare nella nostra dieta moderna, allora molto probabilmente ha già provato i sintomi di appetito eccessivo. Affaticamento, dolori, fastidi e una miriade di altri problemi di salute per anni e Digest Ultra è stato fatto proprio per lei. Adesso parliamo di come può ottenere Digest Ultra oggi. Come ha probabilmente indovinato, ottenere tutti e 16 questi ingredienti per ripristinare la salute intestinale è una sfida. Lo so perché li ho comprati tutti individualmente per me stesso e funzionavano bene, ma sia io che i miei pazienti eravamo d'accordo che trovare alta qualità in tutti questi ingredienti richiedeva tempo e denaro e anche difficoltà ad ingerire 16 integratori al giorno, ma mi piace dare alla gente delle opzioni, quindi se vuole comprare questi 16 ingredienti da solo, ho fatto una lista delle quantità necessarie per ciascuno sul mio sito, così le può comprare dove vuole e mischiarle tutte a casa. D'altro canto, se vuole ottenere questa incredibile formula perfettamente misurata ed avere la sicurezza che ogni campione è stato testato nei laboratori migliori al mondo, per purezza, sicurezza ed efficacia, abbiamo creato un modo facile per rendere disponibile Digest Ultra per tutti. Quando Digest Ultra diventerà disponibile nei negozi, secondo il mio distributore, sarà venduto per 59,95€, un buon prezzo considerando il costo e il tempo che ci vuole per reperire questi 16 ingredienti, ma visto che lei ha guardato questo intero video e so che è serio riguardo a curare il suo intestino gocciolante, ho chiesto al mio team di abbassare considerevolmente il costo di Digest Ultra per un breve periodo di tempo. Quindi se ordina oggi tramite questa presentazione video, può avere Vitavia Digest Ultra per soli 39,95€, uno sconto istantaneo di 20€ e le scorte finiranno. E quando finiranno questa offerta sarà rimossa e Digest Ultra tornerà al prezzo normale di 59,99€. Questa è un'opportunità incredibile e se la cogliere chiedo solo due cose. Prima di tutto, quando inizi a prendere Digest Ultra e prova quello che ho provato io, un aumento considerevole di energia, il corpo più in forma e l'ondata di motivazione, mi scriva e mi dica i fantastici cambiamenti che vede. La mia email è dottorechiocciolavitavia.com. Vedere e sentire come la scienza cambia la vita delle persone è una delle più grandi gioie che provo come dottore. E secondo, e questo è altrettanto importante, per piacere informi i suoi amici e parenti dei pericoli di un intestino gocciolante nei nostri corpi. Come lei sa, è una delle minacce nella salute degli italiani più serie e la maggior parte delle persone a rischio non sanno che lectine ed endotossine sono direttamente collegate ad un aumento di peso, basso livello d'energia e altri problemi molto più gravi. Ho provato a fare la mia parte creando questo video, adesso dobbiamo spargere la voce. E visto che lei è arrivato così lontano, è perché è serio riguardo al migliorare la sua salute fisica e mentale. Abbiamo dei pacchetti speciali per aiutarla ancora di più. Vede, la maggior parte dei consumatori si innamorano di Digest Ultra solo dopo averlo usato per una settimana, io incluso. Infatti attualmente abbiamo 20.000 membri nella famiglia Vitavia, un numero che sorprende anche me. E la ragione per cui abbiamo così tanti consumatori è che quando iniziano a prendere Digest Ultra finiscono per chiedercene un bel po' di più, non solo per se stessi ma anche per amici e familiari, quindi abbiamo creato una confezione multipla per aiutarla a risparmiare un bel po' di più. Quando ordina un pacco da 3 barattoli di Digest Ultra pagherà solo 34,95€ a barattolo. Questo è un risparmio di 25€ sul prezzo di etichetta e la spedizione è gratuita oggi. E se ordina una confezione da 6 barattoli, il risparmio è ancora più grande. Quindi clicchi sul pulsante che dice prosegui qui sotto ora per vedere se queste opzioni sono ancora disponibili. Se ne abbiamo ancora disponibili vedrà un bottone che dice aggiornamento scorte sulla pagina del prodotto con il numero di scorte attuali. La incoraggio ad agire ora se è serio riguardo alla sua salute e longevità. Quando questo lotto sarà venduto l'offerta sarà rimossa e Digest Ultra tornerà al prezzo regolare di 59,99€. Adesso può pagare il piccolissimo prezzo di 1,27€ al giorno per darle quella miscela di eroi intestinali che combattono le malattie, le danno una spinta di energia, l'efficacia di bruciare grassi essendo acceleratori del metabolismo e molto di più da questi 16 unici ingredienti. E ancora meglio, ogni barattolo di Digest Ultra viene venduto con una garanzia di Vitavia per 90 giorni, soddisfatti o rimborsati. Sì, questo significa che può usare ogni singola goccia e se non sente tutti i benefici che tutti i nostri consumatori hanno provato, lo può mandare indietro e le ridaremo indietro ogni singolo centesimo senza fare domande, anche se ci ha rimandato solo barattoli vuoti. Siamo così sicuri di questa formula che vogliamo che la usi tutta e provare questa incredibile trasformazione su se stesso. Quindi clicchi sul pulsante prosegui ed iniziamo. Quando arriva sulla pagina per ordinare vedrà opzioni sul lato destro per Digest Ultra e se vede le opzioni per la nostra promozione speciale su tre o sei barattoli vuol dire che ce ne sono ancora disponibili e può ancora avvalersi di quegli sconti. Il nostro sito è completamente protetto dalla tecnologia di sicurezza più avanzata, quindi il suo ordine è al 100% sicuro e il nostro magazzino è situato in Italia, proprio qui a Milano, con un team di amichevoli addetti al servizio clienti sempre disponibili, se lei ha qualunque domanda. Ci può chiamare 7 giorni a settimana allo 02 82 94 14 60 con domande sul suo ordine per sapere dei nostri laboratori o semplicemente per dirci i grandi cambiamenti che ha notato da quando prende Digest Ultra. Le recensioni che abbiamo ricevuto sono già fenomenali, quindi spero che lei riesca ad ordinare adesso e approfittarsene dell'offerta online. Prima che il prezzo salga e lei perda questa opportunità, la maggior parte dei pacchi lascia al magazzino il giorno stesso che lei lo ordina, il che significa che se ordina adesso potrebbe aprire il suo primo barattolo di Digest Ultra in un paio di giorni. È incredibile con questo prezzo speciale solo online avere Digest Ultra, costa come bere un caffè al giorno. Eppure provvede una spinta molto più pulita che lascia energizzata ma rilassata tutto il giorno senza provare quella stanchezza pomeridiana. Immagini la sensazione di provare Digest Ultra per la prima volta e sapendo che la formula è stata clinicamente testata per anni usando la tecnologia per proteggere l'intestino più avanzata e brucia grassi in esistenza. Quando la nostra miscela per salute intestinale inizia ad avere effetto nel suo corpo, sentirà la stessa cosa che io ed altri consumatori sentiamo. La piacevole spinta di energia, la sensazione di lucidità e autostima, come se le ragnatele fossero state spostate e che tutto sia all'improvviso chiaro. Infatti scommetto che dopo la prima volta che usa Digest Ultra dirà a se stesso ciò che mi sono detto anch'io. Non sapevo di potermi sentire ancora così bene. Ma se ricordi, Digest Ultra non è disponibile nei negozi e la nostra formula è molto difficile da produrre. Quindi per favore, se vuole sentire i benefici ed effetti drastici di questo booster per la salute, clicchi prosegui qua sotto, mentre c'è ancora tempo e ci sono barattoli disponibili. Adesso vorrei essere serio per un momento e parlare di cosa succederà se non inizia a fare dei cambiamenti oggi. A meno che lei non è parte di quella minuscola frazione di persone che mangiano una dieta completamente priva di lectine, la realtà è che il suo corpo continuerà a deteriorare man mano che gli anni passano se non fa nulla per fermarlo. L'affaticamento che prova, i fastidi della digestione, il peso in eccesso, questi non sono problemi che vanno via da soli. Sì, potrebbe modificare il suo stile di vita drasticamente eliminando tanti cibi dalla sua dieta e partecipando in molti esercizi diversi, ma questi cambiamenti sono duri da seguire a lungo termine. Come ricercatore medico e rinomato nutrizionista le posso dire che più aspetta per gestire questi sintomi, più peggiorano. Ho visto molti pazienti peggiorare velocemente col passare degli anni e questo era qualcosa che potevano prevenire. Se avessero fatto dei piccoli cambiamenti, ho visto piccole elevazioni nel livello di colesterolo diventare malattie cardiache, ho visto piccoli problemi digestivi diventare condizioni molto più serie, ho visto pazienti che non controllavano il loro livello di zucchero nel sangue rovinarsi la qualità della vita. Per questo la sto incoraggiando a reagire oggi a fare dei cambiamenti positivi per la sua salute. Provi Digest Ultra oggi senza rischi e giudichi lei stesso. Pensi, una volta al giorno questa miscela può avere un impatto non da poco su molti aspetti della sua salute. Voglio che provi l'ondata di energia che viene da questa formula. Voglio che provi il sollievo quando quelle frustranti infiammazioni lasciano le sue articolazioni e tessuti. Voglio che si senta benissimo dopo che mangia, rendere indigestione, gas e costipazione cose del passato. Voglio che senta e veda il suo punto vita cambiare ogni giorno quando si guarda allo specchio. Voglio che senta la vitalità che lei sa di avere dentro, che deve solo fuoriuscire. Per piacere clicchi su prosegui ed inizi ad investire ora nel suo futuro. E se ricordi quest'offerta speciale per i nuovi clienti è solo disponibile per 24 ore o fino a quando le scorte non finiscono. Provi solo una bottiglia di Digest Ultra ora, risparmi immediatamente 20 euro sul prezzo di un singolo barattolo e provi gli effetti su se stesso. Non si scordi, avrà sconti maggiori su pacchi più grandi fino a 165 euro di sconto, paragonato al prezzo etichetta se compra adesso. Lo provi per 90 giorni e se non è soddisfatto con i risultati per qualunque motivo avrà un rimborso totale. Sono sicuro che si innamorerà del modo in cui questo prodotto la farà sentire. Sono sicuro che Digest Ultra l'aiuterà a vivere più a lungo e sentirsi meglio di come si sente da anni. Per la sua salute! Sono il dottor Raphael Perez. Ancora qui? Probabilmente avrà delle domande e questo è normale. Prenderò alcuni momenti per rispondere alle domande più chieste riguardo a Vitavia. Ho visto altri prodotti per intestino gocciolante. In che modo Vitavia è diverso? Prima di aver sviluppato questa formula ho visto gli altri prodotti in commercio e vidi enormi problemi in ognuno di loro, così che rifiutai di raccomandarli ai miei pazienti. Questi sono i motivi. Prima di tutto gli altri prodotti per intestino gocciolante hanno zuccheri aggiunti o dolcificanti artificiali. Tutti e due sono tossici e creano dipendenza. Vitavia non ha nessun dolcificante artificiale o zuccheri aggiunti. Secondo, la maggior parte degli altri prodotti contengono lectine e per questo era un assoluto problema. Abbiamo parlato prima di come le lectine provocano danni in tutto il corpo, creando problemi seri, incluso l'intestino gocciolante. Quindi Vitavia ha zero lectine. Non contiene neanche soia, un altro cibo salutare tossico, che dico alla gente di evitare. Ma la differenza più grande fra Vitavia e le altre formule per la salute digestiva è che io ho scelto gli ingredienti per questa formula basandomi sui risultati clinici. Sono un dottore nutrizionista con più di 10 anni di esperienze e ho pubblicato ricerche mediche, quindi ho portato quell'esperienza con me. Questa formula ha davvero i risultati perché contiene ingredienti testati nella giusta quantità. In più, Vitavia non è solo una miscela per la salute intestinale. È veramente una formula 3 in 1 perché aumenta l'energia, aiuta a ridurre il punto vita e cura l'intestino gocciolante. È un pacchetto completo per le cose giuste che funzionano. Per vedere la lista completa degli ingredienti, dosi e informazioni sui supplementi, clicca prosegui sul pulsante sottostante per più informazioni. È sicuro? Assolutamente! Vitavia contiene solo gli ingredienti al 100% naturali e sicuri. Il contenuto di ogni lotto è testato nel mio laboratorio e poi ritestato in un laboratorio di terza parte per purezza e qualità. E ripeto, la mia formula non contiene nessuno degli elementi tossici che trovi in molti altri cosiddetti prodotti salutari. Vitavia è privo di zuccheri, dolcificanti artificiali, lectine, soia e latticini. Come dottore la mia reputazione è in gioco con questo prodotto, quindi può essere sicuro che ho cercato in ogni modo di assicurarmi che ogni barattolo sia completamente sicuro. Ho fatto un patto quando ho sviluppato la linea Vitavia. Non venderei mai un prodotto che non raccomanderei ad uno dei miei pazienti. Ma ovviamente come dottore so che nessun supplemento funziona per ogni persona. C'è sempre una piccola parte della popolazione che potrebbe essere allergica o intollerante a qualche ingrediente nell'integratore. Se sei in quella piccola percentuale di persone, contatta il servizio clienti per un rimborso immediato. Come faccio a sapere se sta funzionando? Buonissima domanda! La maggior parte di questa formula è che sentirà la differenza molto velocemente. La maggior parte dei consumatori riporta una notevole differenza in energia entro una sola ora. Per alcuni ci vuole un po' di più, ma è una sensazione che vorrai provare più e più volte. Noterà la nebbia mentale svanire. La colazione dovrebbe essere digerita facilmente. Si sentirà meglio a portare avanti faccende una dopo l'altra senza prendere stamina. Dopo pranzo si chiederà perché non ha sonnolenza. È l'energia che deriva da questa innovativa formula. Non porta a un calo come danno la caffeina, lo zucchero o i carboidrati. È un'energia pulita perché è il tipo di energia che il suo corpo dovrebbe naturalmente ricevere. Saprà se sta funzionando quando guarda all'orologio e vedrà che sono già le 22. Non se n'era accorto perché era impegnato a giocare a carte con amici o finendo un progetto personale o guardando un film romantico con la sua compagna senza essersi addormentato. Sto parlando proprio di questo, il vero significato di avere più energia. Certo, c'è solo un modo per sapere veramente se Vitavia funzionerà per lei. Provarlo per se stesso. Se è pronto ad iniziare adesso e se è ancora qui, lo dovrebbe essere. Clicchi semplicemente e prosegui qua sotto. Come si usa Vitavia? Ok, questa è la parte migliore perché è incredibilmente facile. Non prenderà neanche un minuto della sua giornata. Prenda solo una porzione di capsule Digest Ultra una volta al giorno. Gli estratti di questa formula sono digeriti così facilmente che il suo corpo li metabolizza in energia che può sentire velocemente. È importante prendere Digest Ultra ogni giorno in maniera consistente. Io prendo il mio a colazione così posso iniziare la giornata con una marcia in più fisicamente e mentalmente. E se per me non funziona? Un'altra bella domanda, una che riceviamo spesso. Guardi, come dottore nutrizionista credo che tutti possano beneficiare dei fattori che bruciano il grasso, aumentano l'energia e aggiustano l'intestino trovati in questa formula. Tuttavia ho abbastanza esperienza in medicina da sapere che ognuno è diverso. Due corpi possono reagire in maniera completamente diversa, due miscele identiche. Ho anche visto medicinali potenti avere nessun effetto su dei pazienti ed ha anche a che fare con le loro dinamiche corporee. Quindi anche se abbiamo visto risultati positivi in quasi tutti coloro che hanno provato Vitavia, ci saranno dei casi con meno risultati. Tuttavia la buona notizia è che se la formula non funziona per lei le darò un rimborso. Infatti se per qualche motivo non è soddisfatto dopo 90 giorni di uso, tornerò indietro il suo investimento. La mia reputazione è in ballo qui. Voglio che ogni singola persona che viene da Vitavia abbia un'esperienza positiva. Il mio nome è sull'etichetta e sono arrivato troppo lontano per rischiare tutto. Quindi provi Vitavia per tre mesi pieni. Se non vede risultati veramente drastici, meno fatica, meno d'orori inesplicabili, mente più chiara e miglior stamina, le darò indietro i soldi. È la mia garanzia personale. Quindi per favore clicchi prosegui qui sotto ed inizi senza impegno adesso. Troverà informazioni dettagliate sul sito con la lista completa degli ingredienti in questa formula innovativa, anche su di me e le mie credenziali mediche e ogni cosa che deve sapere sul prodotto. È stato un piacere passare un po' di tempo con lei oggi e spero che farà qualcosa. Clicchi subito sul pulsante qui sotto così che possiamo iniziare a trasformare personalmente la sua salute in energia. Per la sua salute. Sono il dottor Rafael Perez.